Buon pomeriggio a tutti, siamo alla fine della partita ad intervistare Sara Veggo, forte terzino del mestrino alla quale chiediamo subito cosa è piaciuto di più della propria compagine e cosa di meno Sicuramente mi è piaciuto il primo tempo perché abbiamo dimostrato comunque di avere grinta, di stare sul pezzo di recuperare anche un piccolo score che c'era con la squadra avversaria mentre la cosa che mi è piaciuta di meno è il secondo tempo in cui abbiamo mollato un po' la fiacca e da lì non siamo più riusciti a stare in partita Come hai visto la squadra avversaria del Pontigna? Come ti è apparsa? È una squadra come ce l'aspettavamo, agguerrita, veloce, molto brava nelle ripartenze sulla seconda fase Come ho detto precedentemente nel primo tempo siamo riusciti a tenere a bada questa cosa mentre nel secondo tempo purtroppo c'è sfuggita un po' di mano e non siamo più riusciti a recuperare Per concludere sappiamo che sei una new entry per questa nuova compagine dell'Ali Best Espresso Mestrino come procede il tuo inserimento con le nuove compagne? Grande lavoro, grandi sacrifici però spero che tutto questo venga ripagato prima o poi Assolutamente, ti facciamo tanti auguri per il proseguo del campionato Grazie a Sara Veggo Grazie mille, ciao